Abbiamo giocato contro un avversario molto forte, nel primo tempo a livello tecnico e a livello di lucidità nelle scelte, soprattutto con la palla non siamo stati così lucidi, ma poi dopo abbiamo ripreso la partita, l'abbiamo giocato con vemenza, con intensità e anche con la giusta qualità, peccato non averla vinta perché è quello che volevamo e quello che volevamo dare anche ai nostri tifosi. Sicuramente nel primo tempo abbiamo giocato bene, con intensità e nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, quindi potevamo fare sicuramente meglio perché in queste partite devi starci dentro per 95 minuti con qualità, con intensità, con attenzione, con lucidità e purtroppo non averla vinta ci complica un po' tutto il percorso. Adesso facciamo un toglie che giocheremo ancora altre due grandissime partite di grandissimo livello contro due avversari fortissimi, cercheremo di fare bene e cercheremo soprattutto di provare a vincere la prima partita in Champions perché lo vogliamo.